Ho sentito parlare di Superstars, avevo sentito parlare che era un bel campionato divertente con dei bellissimi circuiti e delle bellissime macchine che davano grosse soddisfazioni. Una macchina molto genuina, reale, molto simile a una macchina stradale che però ti dà prestazioni da pista e le gare sono veramente molto entusiasmanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.